ok ok allora è stata un lanza e non mi piace e ci potrei mettere altro conto ggvp ms bonkian mannaccia la puntata iniziamo perfetti quando voglio andare che è forte lardar perchè se ci fa la panella sopra è sempre esistente serve subito la gemella visione per non far fidare il bonti eh ricordatevelo e anche le guardie l'invisibilità già che io è tempo di usare personaggi inizio tu giro o tre o fantoma e tu vieni con me inizia e te lo che che ok che che ruolo manca quindi giro io posso metterlo provo spenna si provo spenna se mai se te va bene fid di tanto e poi fa sacco male e c'è quello stand però molto bello ius carri più scambi no 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 però mi valo ora mi valo ora mi valo ora mi valo ok lo bad o il lago dazolo ok dove vado io posso andare in top o in admi capo se c'è il giro quattro già nini commento buona rosa minuti e' non dove tu hai mitt eee speriamo in trovati guarda non so bello a te i mid dovrebbe venire il phantom lancer o il phantom lancer lo già è che lo divene il mid non è solo sicuro a docazzo sta andando sto andando a fangir beastmaster non lo so che vuole fare la spada e la maschera c'è il coro storia al corso e allora ci serve la gemma la polvere subito il corriere cura beh beastmaster se ne dovrebbe occupare e scriveteci perchè non la capito sicuro no ecco si si la presa la presa perfetto già mi piace sto dizio st maggiora lenta giovane ma sentato pure a me ma era letta no ma l'ho passata le creep bastardo diciamo che te lo ha dato a questo contro porca miseria 4 6 vabbè due volte a corpo a corpo ringrazio addio ecco il bontino ma ciò vorrei subito gioco portami se ne fa male cane mi fa se ciò che mi ha detto che da vita ragazzo c'è problema c'ho problemi qua proprio però ce l'ho però l'ho raga acqua ragazzo problemi comunque sicuro se fuori 4 e' addosta porca miseria porto perché tutti a me mi capitano porca miseria latino non è possibile il ramazzo poi l'importante fa mazza acqua la macchina ma maggiore tutta metà piccola con due punti non so come cacchio fa per favore ero poca miseria il costo sto in crisi non posso neanche far ma appare raga ragazze se voi potete mi tagliate acqua quando vuoi che ciò su problemi problemi seri come posso avvicinare a fare farmaci per favore ma ok 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 andrea dovresti portarti da qualche polvere o qualche cosa se noi non ci facciamo è cazzo io ho notato sto arrivando vai andrea non ciò che sarà il cacchio di scuola paolo ok porta miseria avrò un po' più rilasco rombo di problemi con la street se lo riesce a se lo riesce a sto mani fa un grande favore contro di questo perchè un po' di venda invisibile lo facciamo subito c'è metà vita guarda vedi che direi con la sua bianca andrò vai chiederà l'arco e chiederà ok ho fatto stato pronto e sto andando valendo vai lanciostante no attivano invisibile porta miseria ballaggio va chi era caldo alla città perfetto c'è porca miseria andato cazzo stavio non c'è un mano eh ma stavo là davanti e stavo uccide me stavo uccide pure visto che potevo fare io non ci attacca a distanza mi attacca con me l'ho rallentato e a cazzo già io non c'è un po' di che io vi avrei bisogno in teoria il bonti c'ha due di vita ricordato ti faccio davanti io presto qua davanti ecco non ciò la stanna cittimana porca miseria non c'ho un mano porca miseria lo stun 140 mi serve c'ho 120 con culo la massima nonostante tu e lo facciamo eh ma non c'ho mai la porca miseria non c'ho mai la porca miseria attende che di andare invisibile prendere eccolo ok io ci avrei adesso lo stun preparatelo palianza.pro torre mi becca senza motivo però questo quando avrei eh c'è pure giocchio eh cazzo eh sì bella 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 grande vai tutto possiamo accigiarlo possiamo accigiarlo io ci sto eh ma io no non c'ho non c'ho abbastanza attacco ancora porca miseria cerco il tuo vostro allento ancora vai gioa vai gioa vai vai perfetto perfetto così mi piace mo se vuoi giocare questa partita è giocabilissima anche se ci vorrebbe anche guarda no 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 muo da prendermi io ma lo so tu c'hai qualche soldo infatti portare una pozione una pozione? una cosa dell'invisibilità sta qua sto stronzo ehm no guarda dici penso che si si ce l'ho allora fai venina guarda qua io vado al attimo a curam ok io direi intanto mi compro anche questo stai sempre dietro le creep ma perchè? caos knight perchè? servono le pozioni e a me servono le ward porca miseria no ciao 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 ci sto per mettere penne ci sto per mettere penne e vai dietro cura te ci sto dietro cazzo perfetto non c'è neanche il mana arrivo ti porto la... ah no vabbè ti sei curato ti porto la cura mia vatti a fa quei due va cazzo passata la gialla possiamo chiuderlo però ancora non c'è lo stunno col canicolo giallo sta sotto quindi sta solo problema nostro tu li stanno al volo una volta stannato io pronto non c'è il livello vado a mettere il livello aspetta me via vado a se intanto facciamo lo spazio scanzato facciamo togliere coglioni ma la fatta pure di smaster ma la fatta pure di smaster la fatta pia lo sai posso fa qualcosa manca pochissimo tanto bella con la guarda possiamo vedrelo si ma ancora non lo lo non noi non la... cioè ma ancora no facciamigli crede che è anche invisibile proprio da che a me sta a fa a me oh c'è un livello 6 ok ma possiamo farlo tranquillamente ma non lo rivisto ma dai io dai così vai così merda ne voglio no non ci credo volum e ok quando famiglia scarpe del mano se la stanno su sven però alcuni pro fanno quando sono problemi di mano allora i sali sopra se vuoi andando a attaccare la tua rubia mente anzi una spesa sta arrivando qualcuno sta avvenendo un so chi è arrivato il logremaggi logremaggi e axe sicuro no si ce l'ho io ci sta a favore ci sta logremaggi e il bonti il bonti mi rimette una guarda anche qua però aspettavo ancora no caputana ti spondo ti spondo ringrazio di venire a partire il critico quanto devi ringraziare il suddito non è partito il critico come al solito io voglio quando mi succede stiamo a giocare e non parte il critico lo possiamo fare una rinastano aspetta faccio il coso guarda qua per sicurezza e pronto? si vai devo non cazzo pratica perchè non parte il critico non parte. sia solo lento quando la morte non vuole partito, scrive tra poco dovrì metterla world, marina e te che palle guarda traccia ok diciamo tutti mid porca mi serò non c'è il mare apriamo qua faremo quale grip e scendiamo mid forte non c'ho il cacchio in emana infatti porta una chiarezza costa 50 mua guarda guarda è arrivato fino là sotto minchia gio a no si tolata io eh si facciamo finta via latina facciamo finta via latina facciamo finta via latina ma che fa via per culo si sta piano per culo andiamo a piaggio a te prego non è viola è il bonti sta qua sotto il bot no infatti non c'ho il quad non c'ho più guardia io ah è morto ho capito phantom phantom originale è quello sia quello no non è quello sta qua sta qua chi eccolo vai posso allentare se lo vedo e mi ha lo vedo ma oh vai ho avuto le grips e ci sono ammi tu eh non c'è mai vai e pure il bonte ci sta in un'ove stai in un'altra la sotto abbiamo già il ora lento bella bella oh andiamo dopo andiamo dopo io ho messo a fare in voi stai ok io ho fatto un'altra cosa mi fa all'anno eh manca pochissimo si no no sei un mito ti adoro ti adoro sei l'azione qua se serve a qualcuno sordio io ehm ti serve o no ti adoro generazione ti adoro fox arrivo eccolo vi faccio il giro largo se ci riesco parte critico parte critico parte critico questa torre eh perfetto eh appena puoi andrei fatti la gemma eh caputo non ce la fai dobbiamo facci subito la gemma tutti quanti no no non sto a vedere non sto a vedere non sto a vedere non sto a vedere serve comunque ecco per un petto eee boom è se non è stato capitato non ci sono attivano s si si bella piaciuto ok ok adesso direi facciamoci questa almeno recupero un po' di vita niente un po' più durevole posso tornare in base volando c'è la gemma chi ce l'hai? potrei farmela adesso se vuoi fatta ci possiamo andare sempre assieme lo possiamo pigliare il bonti perchè sta troppo fida lo sta qua sopra vabbè ce l'ho andiamo a piazza ah no vabbè l'ho giusto gioco ok ora andiamo un bot e pensiamo a questo che è questo ax e non è un hub il goccio revenge all the manager che vecchiazzo ahahah aspettate le creep aspettate le creep aspettate le creep aspettate le creep vabbè aiuto in modo a catteggia chi robello boccacchino ma via cazzo bella comanda via cazzo 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 boccacchino 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 si sta rontevo io mi vuol corriere lo so attiva la velocità però che la prossima farei quello mi farei anche la rocca cazzo 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 dai belli dai 4 4 4 4 salvati 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 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 9 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 11 12 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 16 Ma è andato addosso per favore Oh, ma hai fatto tanto male What if I said that I can do this? Oops Multicast sto ceppo Mu? Quando le partite vanno come voglio Ho capito No, facciamo se sta cazzo di gemma vado a piaduto sto cosa Ok, ma se ando ci fa... Vabbè no, ma io spingi qua Anzi, ho il negozio segreto da due passi Ma io se ne faccio questo Ho perso garanzo e 300 mi faccio la gemma Almeno così sto posto Yeah Giaghiro Giaghiro bello? Ponti dietro Ma ucciso Stantalo, stantalo E' un posto ancora, c'ho la... Eh, cazzo posso? Oh, grande, eh no No, ma ce l'hai tu la gemma, Rina? Sì, ce l'ho io Ah, ecco, per favore L'ho compratto Vabbè Quindi un momento fa Vabbè Sì, ce l'ho detto E ci stanno agli sti dietro Atchiamo E' questo qua dietro, quello originale. Quello più dietro. Quello va preso ma non so più chi cazzo. Dai eh. Cazzo di merda. E' quello. E' quello. E' quello. E' quello che ha preso il doppio danno. Eh stai attento però. Se tu riesci a favore con il doppio danno ho già la testina. Ahahah. Arriva, arriva raga. Veloce, ci sta il bonti. Eh mica solo lui. Sa due. L'altra è lax e ax e nobile. Ok, possiamo farcela. Vai, se tu mi stanni il bonti lo faccio. Non ci sta qua. Stava avanti Axe. Sì, Rinaldi ce l'ha. Che ci mette e arriva l'acqua? No, mi ha ucciso. La giamma, la giamma, la giamma. Mi ha ucciso. Porca miseria. Ce la faccio a farlo da solo secondo te? Ah beh, ce l'ho quest'altro. Lo scappi, amico. So di merda. Via, fuggitela. Ma chi vuole fuggire? Nuovo devo fuggire. Non ci va. Tu ce l'hai so di combattere la gemma. Oh. Eh cosa, sei presa, ehm, Fabri? Eh? Se puoi ricomprarti la tra gemma e questa è presa me la lida e me perchè... E di quanto sta arresto? Sto a 5 minuti prima. Eh, hai fatto... ah, vabbè, puoi vedere? Eh, sta a 2 minuti. Oscar 3 non c'ho vita, Gio. Eh, voglio vedere perchè io c'ho più vita, capito? Devo risalire. Non c'ho vita. Mi so scendere io. Ho un poca vita, vado. Passami la roba che le... Sì, te. C'ho più vita io. Perfetto. Lo spingiamo, eh. Ma dove stai? Per un petto. Per un petto. Per un petto. Per un petto. Pensa a spinge mid con noi, mo. Non andava a botta, non ti serva un cazzo. Inutile che ci vai, mo. Da mezz'ora che stiamo a spingere mid. Andate ragazzi, andate distruggci. O al massimo, cercati blocca il phantom. Andai io, top. Top. Pensa solo copia. No, forse questo è l'originale. Sì, è l'originale. Oppure no. No, era una copia. Giusto arriva. Non hai ragione per girocotteri. Provo a chiudere l'asera d'acqua. Non ci sto a modo che vede qual è l'originale del phantom lancer. No, qua non c'è nessuno, ragazzi. Torna più giro che poi vai mid, giallo. Lascia l'uomo con l'uomo con l'uomo. Visto. Chi era? Io ho visto uno qua dietro. È il phantom, è il phantom. Sta andando in mid, mi sa. Proiamo. Eccolo. Sta pure già chiuso, attenti. Oh, oh, André. Eh, ecco. Ci sono. Stai affaggrepando. Stai affaggrepando. Io. un po' che non si è sofferti. Poca, non so che ho veramente. È quello centrale, quello originale 3 best. Sembra tenere una colpa. Nooo, la gemma, la gemma! No, pezzo di mo'. Perfetto. Fateme. Fateme. Fateme, fateme. Fateme. Attenzione, quattro Phantom Lancer copia, penso. No, c'ho, richi dietro. Raga, c'ho richi ma, eh, shirich. richi bonti ma fatto un po' te lo sogna la notte se mi davi la gemma vai giova vai attento boom vendicami giova vendicami ok me la riguardo no merda dai giova c'è due di vita non era morto il bombi no non ci credo credo che fosse morto tipo ti fa tutte e due porca puttana credo che fosse morto fa brilli giuro tranquillo ma la gemma l'ha presa lui si è preso la gemma ce n'ho uno io credo che fosse morto cazzo ma l'aveva detto no che altro me devo fare oh dobbiamo spingere dobbiamo spingere non lasciamoli fin da come facciamo sempre spingiamo sto mi debba sto mi basta sono gianna farosha decine adesso adesso fanno anzi a farosha adesso fanno loro facciamo il bonti qua andrea ci serve 10 ci sono aspettare 3 secondi veloce radio ecco il bonti lo vedo si pure io vabbè ce l'ho io ha stonato ha fregato loro no no fai 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 stacca mi ha lisciato di nuovo vi rallento facciamoci il bonti subito sparito se l'è fuggita aspettiamo quale italiano corregiamo l'uomo già lui via mid cristo e sta l'aspettatore sto arrivando sto arrivando che cavolo è quell'uccello? che cavolo è quell'uccello? bonti è il mio eh lo dicono tutte ma hai lisciato rischi rischi sto continuando a rallentare io quel cazzo dico ma che ma finchè sta così vicino alla base non mi sono mai niente oppure sì sicuro andrea? perfetto stanno cremati che cazzo sta combinando la torre l'ho rallentato vai la torre qualcuno che stigano oh qua dietro i phantom potrebbe essere originale quello dietro si oh yeah qua mi curo io spaccate 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 tutti morti tutti morti 2 secondi arriva già chero eh fatemi guarda le grip sape tu paura viva la torre è alta la torre la torre la torre i posto fu my la torre vado 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 la torre il ok sì ma un po' in giunglaio. Lasciala me, lasciala me, lasciala me Giova ok io vado di qua invece io vado di qua l'importante è che abbiamo avviato le mega creep sono finito l'acqua me lascia me giunglerai tra un po' mi faccio la cosa, la religia sacra e poi sto acqua di vino ma anche se è venuto push un attimo qua 10 civili alle spalle se ci riesco te lo teletrasporto tranquillo no no venite subito, venite subito tutti quanti lascialo per del bonti, anzi stanno divisi eppure meglio io cerco di facciare l'iro cazzo di merda ci hanno voglia di rimorire così velocemente dove è finita? Andrò qua? no, è proprio là vai o Amen ponte dietro, ponte dietro ponte dietro ponte dietro grazie per il f hydro camico bella come com'è i testo la parola scrive ctti aiutare il palazzo porti cittadini un bambino sporo è più lo sborone amico testa di cazzo attendo giocatore contro o cacchio c'abbiamo acce o cacchio c'è un'altra solo per favore maggi non c'è un malattia il progetto e farlo facciamo se no sta pure già in realtà ogni avidiamoci diriamo ford io vado in place con il negozio segreto l'ho fatto già pagato per tornare box stampa la sua stacca di vino non sto con io facendo in più d'attacco sparte un cricoli spot anche perché c'è il critico a tre parti praticamente ogni 5 secondi porto perchè scuola conti qua sopra se mi vuoi da una mano facciamo test testa 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 il piccolo roma st roma 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 giusti un po' di bambini sull'epoca e con le riparare cazzo ma sono morto con stile cazzo per toccino abbasino io cc mancola presa le deficienti del support porti se non ci sta resta con mario no ma c'è un puntino con le gemme contro i quelli che si andano invisibili sfondi da posso fare niente bambino che chi è questo guerriero necromante chi è corriere necromante il guerriero necromante costa ma se vi sta parlando dietro raga forza misera perché sono bloccato ah ecco ho detto non ci vi fa non ci vi lascia mai troppo tempo alle partite no no contiamo a spingerla senza fare altre torre se basta il tempo le facciamo no si tratta la denti e giunga per recupero la vita io andavo in grotto per con me sti centoni e c'ho lo stocco di vino poi mi dovete coprire tutti quanti e che se lo vediamo loro so cazzo 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 devo recupera vita assolutamente cazzo 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 bucce bocci no 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 ce ne ho fatto ora cazzo 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 baracca ok almeno se con penso io vabbè 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 no sto arrivando mi torta esprezio che pittore un po' di vita però мо che posso fare avverto quindi vedi tutti quanti in una parte e facciamoci, riuscire a rompere uno sta torre cazzo vai gioco fai io tutte le copie arrivo l'originale l'hai visto no? ma dove sta andata quello? vai vai sti gatti 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 ma se vuole andare da fafitto intenzionale da fafitto intenzionale boom ma che bastardo questo mi avevo lanciato l'anticortello a me serve per... mi serve da ammazzolo per cura vita ci hanno fatto la torre no non ci hanno fatto in realtà no, lasciamene qualcuna e dovrei recupera vita vai vaffalopa cioè prima erano ero i bloccatori di persone che troppo male bella vada a piaia il bontio cioè c'era non so la gemma che gli vieni con me io momento sotto torre lo faccio incontro non tolto aspetta un attimo aspetta un attimo quando vuoi romanzo perciò 22 fatti capire chi è ax e viola no per te accorge dei critici faria spingere negate sta torre la torre mi denegatela sennò non c'è una roba o sennò andiamo a bloccarli andiamola blocca abbiamo pushato e non ecco ci fanno andiamo a dare una mano andrea guarda qua in mezzo che cazzo è guardate tutti quanti io sti phantom lancer poi ho continuato a spingere da chi phantom lancer se muoio muoio questo è la gemma ah ok spingere ok arrivo devo capire che è quello vero c'è pure ax forse è questo l'originale si è quello pure io la gemma tutti i loro tentativi sono inutili mi stanno a far solo fidare mi piace ma per me tra un po' tra un po' che ho pure farfallaggio aia mi si fa mi si fa mi si fa ora devo qualche cosa al volo, minale crit, minale crit aiuto 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 dai, vai, vai 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 stanna merda l'ho cremaggio forse lo scappiato forse lo scappiato non ci credo non ci credo, raga gemma dove sta, dove sta non si sa mai vabbè io me la ricomo intanto c'è soldi non la posso via che ci pensi la gemma perchè? eh vabbè perchè sto pieno ma cosa lo scudo dei poveri? che poi anche te parto per l'arriata su non lo so guarda a rompe sta cazzo le cose finita vini qua ax è bello se faccio ieri fago per rientrare prendo questa e proprio corro rascio non questo è un po' che 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 è un po' la 10 13 19 porca guarda io pure una cosa stanno esce giallù capriere io segnalo a scuola 21 4 stupendo ma segna stavosti fidighi intenzionale tutto perché la stella storia rosa riportate io ho riportato sì posto a posto perchè aveva capito che avevano perso e va bene così non se lo merito report fabrizio che porto con vera ho capito già sono già uscito ma sono già indicato